Il PD dice e si contraddice, predica bene e razzo la male. Quello di cui il Paese ha bisogno è una vera riforma dell'economia, del fisco, è la riforma liberale e federalista che sta alla base del programma di governo. Il governo ha nel programma la rivoluzione liberale e federalista, dobbiamo realizzarla con attenzione e con decisione, portando quei risultati che la crisi economica ci ha impedito di raggiungere.